Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video del mio canale oggi vi voglio parlare di questo canale Telegram che ho scoperto si chiama Offerte Tech Shock, è un canale ovviamente gratuito dedicato alle strepitose offerte dei market più prestigiosi con sconti e promo unici praticamente trovate le offerte dei mercati principali in primis Amazon ebay, Gearbest e anche altri portali ecco devo dire che le offerte sono molto selezionate come potete vedere e addirittura ci sono anche delle applicazioni segnalate che per un determinato periodo si possono scaricare gratuitamente dall'app store tipo anche da android come vedete questo era un gioco Hitman quindi guardate io mi trovo bene basta che attivate la notifica su telegram quando esce una nuova offerta ecco potete visualizzarle immediatamente non vi costa niente iscrivervi e ve lo consiglio ve lo segnalo perché conosco anche il titolare del canale che è un'ottima persona è molto seria e monitora costantemente le offerte che ci sono sui vari siti e spero di avervi fatto cosa è molto più piaciuto e vi saluto e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti